Simone benvenuto a Bologna sei contento un'operazione dell'ultimo giorno di mercato benvenuto tra noi grazie grazie sono molto contento e cercherò di dare il contributo insomma il massimo del contributo abbiamo conosciuto d'avversario quando giocavi con il Carpi ai tempi della tua permanenza con Castori era un bel duello con il Bologna per venire in Serie A e poi per rimanerci sì sì sono state delle belle partite sempre combattute sia in Serie B che in Serie A quindi ho anche un bel ricordo di quelle sfide stai bene sei pronto fisicamente ti sei sempre allenato e sempre giocato quindi ti aspettiamo in campo al più presto sì sì ho giocato anche le ultime partite quindi mi sono allenato anche ieri mattina quindi sto bene sono pronto ad allenarmi